Questo programma è offerto da Jesus, il mensile di cultura e attualità religiosa. Grazie a tutti. Il 27 aprile 2003, Don Giacomo Alberione, in piazza San Pietro, è stato proclamato beato da Giovanni Paolo II. Grazie a tutti. 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 Mi dica lei cosa devo fare, allora mi dice senti trovi una grande residenza, una grande casa con un grande terreno per costruire una casa per le vocazioni e allora mi ha detto per riuscire devi sempre avere molto a fiducia la provvidenza e poi recitare ogni mattina il segreto di riuscire, la preghiera. Qual è questa preghiera di riuscita? È una preghiera che lui stesso ha composto, che si indirizza al Maestro Divino, Gesù Maestro, dicendo che noi ci abbandoniamo a lui e che lui ci pensa, che ci pensa lui, molto fiducia, cioè abbandonarsi completamente, guarda che è difficile abbandonarsi a lui, vuol dire rinunciare a se stessi. Ero una mattina nella riva di un fiume, mattino presto alle otto, che stavo recitando il rosario, proprio nella periferia della grande città di Muntra. Mi si ferma un signore che si chiamava Denot e mi dice ma lei di sa che è un tipo strano, è qui da solo al mattino preso con la corona in mano, ma chi è lei? Io ho detto setta, io sono un religioso dell'alberione e stavo pregando perché in questa zona mi piacerebbe trovare una piccola casa con un grande terreno per costruire poi una casa per vocazionare. E adesso quanti siete? Siamo in tre religiosi. Io ho risposto liberamente questa cosa, a un certo momento lui mi dà uno schiaffo nella testa e mi dice lei è veramente fortunata perché io ho tutto quello che lei desidera, vieni con me e seguimi. L'alberione vi insegnava a vedere alla grande le cose. Aveva sempre, vedeva sempre lontano, ma come? Eravamo lì che non avevamo un soldino, pensava a una casa delle vocazioni. Voi riuscivate a lavorare avendo alle spalle uno che vi dava la carica, no? Esatto, sì, sì. Ah beh, siamo stati, io sono, quando è partito lui e come mi avesse dato, messo una bomba atomica, allora a un certo momento via per le vocazioni, per la propaganda, allora prendevamo i libri a Sherbrooke, facciamoli in diffusione, sa dove? A 500-600 mila chilometri, se lei sapesse quanti Bibbie, quanti Vangeli abbiamo diffuso, se lo mettessi qui davanti a me ne avrei paura, montagne. Don Piergiorgio Beretta e un altro Paolino. Negli anni, Don Piergiorgio aveva lanciato la campagna della Bibbia a mille anni, siamo dagli anni tra il 63-64, il 62-64 all'incirca, quello che posso ricordare, e lì dovevamo rilegare queste Bibbie, le Bibbie venivano stampate, anche con tipografie esterne, ma molte venivano stampate dalla comunità di Roma, ci arrivavano i foli stesi, noi dovevamo piegarli, rilegarli e confezionarli. Naturalmente questo lavoro di confezione richiedeva tempo e non sempre eravamo tempestivi nella consegna. Allora cosa capita? Che ogni tanto il suo segretario di Don Alberione mi telefonava e mi dice c'è il tuo amico che ti vuole parlare, il mio amico sarebbe stato il primo maestro. E lui mi domandava se avevo il pronto delle Bibbie, lei gli diceva sì, ce l'avrei pronte, ma ora non c'è qualche piccola difficoltà, farò del mio video per poterle consegnare. Lui mi disse mi raccomando, fai il bravo, certo. E aveva il pallino delle Bibbie, dei libri, doveva. Sì, perché la San Paolo è un po' nata per questo, per diffondere la parola di Dio, con la stampa, all'inizio si parlava della stampa.